E' il primo impegno organizzativo della stagione per la ciclistica mobiliare di Ponsacco del presidente Franco Fagnani. Si tratta del Gran Premio Giovanile Comune di Ponsacco con la presenza dell'assessore allo sport Francesco Vanni. Giovanissimi in gara, 135 complessivamente al via, 16 le formazioni, è per questo primo appuntamento di una stagione davvero intensa per la società nata nel 1894. Franco Fagnani, lo avete visto, dà il via alla promozione giovanile prima dell'inizio vero e proprio della competizione e accanto a lui proprio l'assessore allo sport del Comune di Ponsacco, Francesco Vanni. Dicevamo dell'impegno organizzativo che attende la società nata nel 1894, infatti a fine giugno 28, 29 e 30 giugno ci sarà il Giro dei Tre Comuni, Cascina, Calci e Ponsacco, naturalmente con la gara a tappe per la categoria allievi e il 30 di giugno partenza da Cenaia ed arrivo nel Viale Italia Ponsacco anche il campionato toscano esordienti primo e secondo anno. Intanto dunque questa manifestazione, intanto ecco qua Massimiliano Vanni, vicepresidente della società ma anche tra gli sponsor di questa manifestazione con la sua azienda Elettro Piccoli 73 e 54 per quanto riguarda 73 e 51 in verità, questi numeri giusti per l'Elettro Piccoli di Massimiliano Vanni. Intanto con le immagini siamo alla gara della G1, non ci sono femmine per quanto riguarda la prima competizione e vediamo una decina di concorrenti che prendono il via. 16 le società presenti a questo appuntamento, le ricordiamo la Coltano Group che poi sarà anche la vincitrice della speciale classifica con 33 punti, una bici per tutti di Ponte d'Era che arriverà a seconda con 25 punti l'Unione Ciclistica Empolese che invece otterrà 21 punti e il terzo posto. Poi a seguire Costa Etrusca, Team Stradella, Butese, Mobili Berti Benassi, Donoratico, Castelfiorentino Banca Cambiano, Velo Club Carrara, Velo Club Empoli, Scuola Ciclismo, Olimpia Valdarnese, Fablimar Marco Forever, San Mignato Ciclismo, Polisportiva Mille Luci, Pedale Senese e queste le 16 società che hanno dato vita a questa competizione. Mentre noi andiamo a vedere il primo successo con 7 anni per Brando Caleca della società Una Bici per Tutti, secondo posto, eccolo qua, Gabriele Stefanucci della Coltano Grube, terza posizione per Tommaso Tognotti della Costa Etrusca, poi in quarta posizione Pontrandolfo, quinto posto per Reggioli, questo è quanto è successo nella categoria G1, come abbiamo detto che era priva di femmine e quindi c'è stata questa competizione soltanto riservata al settore maschile. Intanto si posizionano per la partenza, ecco qua Giorgio Zanobini, il presidente del Velo Club Carrara 1961, che ha accompagnato i suoi giovanissimi in questa trasferta in provincia di Pisa, mentre Barbara Lorenzini, che è la presidentessa del collegio di giuria, dà le ultime disposizioni. Intanto lo stesso assessore allo sport abbassa la banderina per quanto riguarda la seconda gara, quella della G2, dove sono presenti anche le rappresentanti femminili. Il ritrovo è avvenuto in piazza da piano e poi in questo circuito di 900 metri, da ripetere varie volte a seconda delle categorie impegnate, e che tocca via Giuseppe Verdi, via San Pietro a Casato, via Fratelli Bandiera, per tornare in via Vanni, via Vanni che è il rettilineo di arrivo storico anche per la conclusione della Coppa del Mobilio, la gara nazionale per Elite Under 23, che si correrà anche quest'anno nel mese di ottobre. Quindi non mancano, dopo questa gara per giovanissimi, tanti altri impegni organizzativi per la ciclistica Mobiliari e Ponsacco, mentre vediamo questo passaggio relativo alla categoria G2. Intanto sempre immagini elettropiccoli 73-51, sponsor così come Ceccotti, così come tante altre aziende che comunque hanno dato una mano a Franco Fagnani per poter allestire questa competizione. Si corre al mattino, in questa prima domenica del mese di maggio e naturalmente per i giovanissimi si avvicinano anche tre scadenze importanti, i soliti meeting regionali per quanto riguarda il fuoristrada, per quanto riguarda l'abilità e gincana e naturalmente per la prova su strada. E intanto andiamo a vedere quello che sta avvenendo al termine della G2 con il successo, eccolo qua, di Alessio Martinelli, Veloclub Carrara 1961, il secondo posto di Marco Franzese dell'Empolese, questo è Gabriele Baldini della Fabrimar Marco Forever, poi quarta posizione per Castaldo e quinta posizione per quanto riguarda trapassi. Nella categoria femminile ha prevalso, al termine di una bella prova, Cristina Emma Gaggioli, l'atleta che careggia nella formazione dell'Unione Ciclistica Empolese, secondo posto per danni balle della società Una Bici per tutti. Quindi due gare si sono già disputate, due batterie delle sei, intanto vediamo anche Roberto Bernacchi, storico presidente della ciclistica mobiliari Fonsacco per tanti anni, mentre escono dalla zona di ritrovo i concorrenti della terza batteria, quelli della G3, quindi siamo all'età di nove anni. Uno sguardo anche ai prossimi impegni ciclistici in Toscana, mentre vogliamo ricordare la presenza anche di Nicola Procino, che è il presidente del Comitato Provinciale di Pisa della FederCiclismo. Dicevamo dei prossimi impegni per quanto riguarda i giovanissimi, sabato 11 maggio ci saranno tre gare a Calcinaia, ancora in provincia di Pisa, poi a Scandicci, ed una gara a Bucine in provincia di Arezzo. Questa partenza è stata data proprio da Nicola Procino, presidente del Comitato Provinciale di Pisa, mentre l'appuntamento di sabato a livello dilettantistico è con la gara di Castiglion Fiorentino. Successivamente, domenica 12 maggio, appuntamento con il Gran Premio Industrie del Marmo a Marina di Carrara, una gara internazionale per Elite Under 23. Gli Uniores e gli allievi saranno invece a Stabbia di Cerreto Guidi, mentre gli esordienti avranno a disposizione la gara di Castal Guidi e gli allievi, oltre a Stabbia, impegnati anche a Montemarciano. Questo è un po' quello che sarà il programma del prossimo fine settimana, ma è una settimana importante perché la Toscana sarà attraversata anche dal Giro d'Italia con le tappe previste dalla Corsa Rosa nella nostra regione. Intanto seguiamo questa categoria G3, abbiamo visto Tiago Parri della Costa Etrusca, una presenza per quanto riguarda la G3, numerosa, sicuramente una delle batterie più partecipate per quanto riguarda la gara qui che si corre a Ponsacco, questo secondo Gran Premio giovanile comune di Ponsacco organizzato dalla ciclistica Mobiliari, zona del traguardo di Via Vanni e con il passaggio dei concorrenti, abbiamo detto che sono stati 135 degli oltre 150 iscritti, tra l'altro era prevista anche una gara di giovanissimi alla Ferruccia in provincia di Pistoia, poi è stata annullata la manifestazione organizzata dalla Polisportiva Mille Luci. Tanto Roberto Fruzzetti, noto fotografo che ama la presenziale e le gare per giovanissimi, mentre il nostro collega Stefano Galli fa da speaker a questa manifestazione e poi al termine della stessa raccoglierà le interviste con gli organizzatori di questo evento riservato ai giovanissimi del pedale dai 7 ai 12 anni. Si va verso la conclusione anche per quanto riguarda la categoria G3, abbiamo visto molto attivo il Livornese Parri della Costa Etrusca, staremo a vedere comunque anche per quanto riguarda le femmine quale sarà la vincitrice e intanto ecco qua l'arrivo in questo momento sul traguardo proprio dell'esponente della Costa Etrusca, Tiago Parri che va ad ottenere il successo e poi lo sprint per il secondo posto con una maglia della Coltano Grube e infatti è Cristian Neri che ottiene il secondo posto, terzo Francesco Brucini che invece corre nella Butese, quarto Grandi e quinto Bellucci. Per quanto riguarda le femmine c'è stata la vittoria in questa batteria di Matilde Bottai della Coltano Grube, al secondo posto la Marzocchi, terza la Rallianti. Metà del programma di questo Gran Premio Giovanile Comune di Ponsacco si è ormai esaurito perché siamo alla partenza della quarta batteria delle sei e previste per questa gara con il patrocinio del Comune di Ponsacco la sponsorizzazione dei tradizionali collaboratori della ciclistica mobiliare di Ponsacco ad iniziare dall'elettro piccoli 73 e 51 mentre vediamo anche i concorrenti che difendono i colori del Veloclub Scuola Ciclismo di Empoli poi anche le rappresentanti femminili che sono riconoscibili anche dal numero rosa che hanno sulla maglietta ed è il momento della partenza anche per la quarta batteria naturalmente aumentano i giri in programma di questo anello di 900 metri che praticamente è quasi nel centro di Ponsacco un percorso che tra l'altro presenta anche una sede stradale abbastanza in buone condizioni qualche intervento di riparazione è stato effettuato prima della manifestazione grazie al Comune, ricordo la sindaca Francesca Brogi per quanto riguarda il Comune di Ponsacco mentre qui a rappresentare l'amministrazione comunale era invece presente Francesco Vanni l'assessore allo sport intanto questo passaggio a gruppo compatto aumenta naturalmente l'andatura con le categorie, definiamole maggiori, la categoria G4, G5 e la G6 con il gruppo che si è leggermente frazionato mentre vediamo una delle rappresentanti femminili che appunto in questo momento sono transitate dalla zona di Via Vanni Nicola Procino ad assistere a questa manifestazione presidente del Comitato Provinciale di Pisa mentre vediamo questo passaggio con i concorrenti che dopo un avvio abbastanza tranquillo a gruppo compatto si sono appunto frazionati da segnalare anche una buona presenza da parte di sportivi in questa mattinata di maggio questa mattinata festiva con numerosi rappresentanti non soltanto delle società ma anche appassionati di ciclismo a nuovo passaggio dalla zona del traguardo prima ormai dei giri del giro finale perché suona la campanella e quindi iniziano gli ultimi 900 metri di questa prova e andremo a vedere chi sarà il vincitore per quanto riguarda la categoria G4 dopo avere ammirato in precedenza Brando Caleka una bici per tutti che ha vinto nella G1 Alessio Martinelli del Veloclub Carrara nella G2 e nella G3 il successo di Tiago Parri e questa volta invece vediamo una maglia della Butese la maglia bianca, lo vedete sulla sinistra e infatti va ad ottenere successo Cristian Bartoli della Butese davanti ad Alessandro Giannini della Costa Etrusca Nicola Gesa sempre della Costa Etrusca quarto Pala e quinto Malacarne per quanto riguarda invece le femmine il successo è stato ottenuto da Sofia Diletta Politi del Castelfiorentino Banca Cambiano che ha anticipato la Quiriconi al terzo posto la Moriconi e intanto escono dalla zona di ritrovo i concorrenti della categoria G1 11 anni per questi giovanissimi e per le giovanissime che saranno impegnate siamo ormai praticamente ad oltre 10 giri complessivamente in programma per questo appuntamento che ha riscosso sicuramente un ottimo successo mentre vediamo Gino Rosario Stefanucci che dà gli ultimi consigli agli esponenti della Coltano Group è una società che si sta togliendo tante soddisfazioni non soltanto con la categoria esordienti grazie alle sei vittorie già ottenute in questa stagione ma anche grazie ai giovanissimi nel ricordare le società presenti abbiamo detto anche che il primo posto tra le società qui a Ponsacco è stato ottenuto proprio dalla società del presidente Ulisse Stefanucci e vale a dire la Coltano Group che ha anticipato nella speciale classifica una bici per tutti di Pontedera e l'unione ciclistica empolese abbiamo visto anche naturalmente gli esponenti delle varie società impegnati e intanto primo piano ancora per Massimiliano Vanni il vicepresidente della ciclistica mobiliari Ponsacco uno degli sponsor principali di questa gara con questa azienda che è inquadrata con questo triscione mentre intanto Franco Fagnani è pronto naturalmente per la conclusione della prova quando ci sarà l'ultima partenza e intanto predispone naturalmente i vari servizi ci sarà anche una premiazione a chiudere questo evento in una cittadina quella di Ponsacco che ricordiamo ha anche una scuola di ciclismo grazie proprio alla ciclistica moglieri Ponsacco è stata l'anno scorso nel febbraio del 2023 inaugurata ufficialmente ma da quest'anno ci sarà anche un programma particolare un programma preciso per i giovanissimi quindi è un invito a chi vuol arrivare al ciclismo a chi vuol praticare questo sport naturalmente di praticare anche le iniziative di svolgere tutte quelle iniziative che la scuola del ciclismo avviamento a questo sport è stata appunto inaugurata un anno fa qui a Ponsacco grazie all'impegno di Franco Fagnani di Enrico Cocchiola e degli altri dirigenti lo striscione di arrivo ci ricorda che siamo alla conclusione della categoria G5 con Mattia Bolognesi che abbiamo visto nelle primissime posizioni come sempre è uno dei favoriti nel giudizio di chi segue da vicino questa attività è una sprint che vede proprio la maglia della Coltano Grupo sulla destra che sta lottando per ottenere successo con Di Lucia dell'Empolese e riesce ad avere la meglio proprio il giovanissimo della Coltano Grupo Mattia Bolognesi secondo Niccolò Di Lucia dell'Empolese terzo Gian Maria Berti della Berti Mobili Benassi di Massa quarto Bianchi e quinto Gorini per quanto riguarda invece le femmine è successo dell'esponente dell'Empolese Noemi Cianti davanti alla Trapassi e alla Giusti quindi non ci resta che assistere all'ultima batteria in programma quella della G6 per concludere questo Gran Premio Giovanile Comune di Ponsacco organizzato dalla Mobiliari con poi le interviste realizzate dal collega Stefano Galli mentre proprio prendono posizione ora sul rettilineo che è di partenza ma anche di arrivo di Via Vanni con una buona presenza anche per quanto riguarda la categoria G6 ultima prova di questa riuscita manifestazione che ha inaugurato come abbiamo detto all'inizio del servizio la stagione 2024 sul piano organizzativo della ciclistica Mobiliari Ponsacco in primo piano le maglie della Coltano Grube e poi quelle anche della Polisportiva Mille Luci della Stradella di Massa Team Stradella abbiamo visto anche Domenico Francini che è il presidente della società massese e intanto sempre Francesco Vanni che ha assistito praticamente a tutta l'intera manifestazione a tutta la gara ha dato il via all'ultima batteria del programma che vede i giovanissimi di 12 anni coloro che l'anno prossimo poi saranno nella categoria esordienti sono stati oltre 20 24 per la precisione i partecipanti all'ultima batteria con una quindicina di chilometri in programma per quanto riguarda l'ultima prova in programma qui a Ponsacco una cittadina che è legata al ciclismo da tanti anni di svolgimento della Coppa del Mobilio ma soprattutto dall'attività tenuto conto che l'anno di fondazione è il 1894 tra l'altro proprio in settimana qui da Ponsacco ci sarà anche il passaggio del Giro d'Italia la 107esima edizione nella tappa che da Lucca porterà la carovana rosa a Rapolano Terme in provincia di Siena mentre ricordiamo mercoledì invece 8 maggio l'appuntamento è con l'arrivo di tappa a Lucca poi la partenza avverrà da Torre del Lago Puccini nella zona di Viareggio per la tappa che transiterà proprio qui dalle zone del Pisano dalle zone della Valdera perché dopo Ponsacco attraverso la Rosa attraverso la Sterza i corridori raggiungeranno Volterra dove è posto il Gran Premio della Montagna e quindi il finale con le strade bianche in provincia di Siena torniamo al Gran Premio Giovanile Comune di Ponsacco ultima gara in programma e intanto vediamo come la Coltano Grube Costruzioni continua ad essere protagonista infatti abbiamo visto Edoardo Stefanini c'è stato un netto frazionamento in questa ultima batteria come si può notare al passaggio ecco invece quello che possiamo considerare il gruppetto degli inseguitori rispetto a coloro che stanno comandando la gara ricordiamo ancora nella classifica squadra il primo posto della Coltano Grube il secondo posto della Una Bici per Tutti terzo posto per l'Unione Ciclistica Empolese mentre continua la bella prestazione da parte di Edoardo Stefanini che mentre passa in questo momento anche Luciano Nicolini della Stradella di Massa e ora il gruppetto torna a concludere uno dei giri in programma e si avvicina naturalmente all'epilogo anche questa categoria G6 infatti era l'inizio dell'ultimo giro e intanto ecco qua il successo di Edoardo Stefanini della Coltano Grube che va ad ottenere successo seconda posizione ancora per un esponente della Coltano Grube Giulio De Angeli terzo Luciano Nicolini della Stradella di Massa che arriva in questo momento quarto posto per Pucci e quinto Partini tra le femmine ha vinto invece l'Una Raglianti della società Una Bici per Tutti davanti alla Tappinassi e alla Mantellassi una bella gara 135 giovanissimi qui a Ponsacco complimenti a chi l'ha organizzata Nicola Procino il presidente del comitato provinciale Pisano della fede del ciclismo è sempre più difficile organizzare gare di ciclismo perché ci sono sempre meno atleti beh sì non è semplice gli atleti un po' mancano però insomma le nostre società sportive si stanno impegnando in questo senso e stanno cercando di dare più diciamo servizi alle famiglie e cercare appunto di coinvolgere il più possibile i bambini in un progetto sempre più sicuro e sempre più all'avanguardia cosa si sente di dire a Fagnani presidente della Mobiliari che quest'oggi ha messo in piedi questa manifestazione ma prima di tutto grazie grazie enorme perché servono veramente come l'aria queste manifestazioni e poi le vorrei dire anche di tenere duro perché il periodo appunto è difficile anche insomma trovare persone che danno una mano per poter svolgere e organizzare queste manifestazioni non è semplice però alla fine si riesce sempre a far chiudere il cerchio quindi teniamo duro di tenere duro e insomma a questo punto ci rivedremo per la tre giorni per il giro dei tre comuni adesso quest'anno che sarà anche lì una manifestazione bellissima ma molto molto faticosa molto molto faticosa e poi dopo questa manifestazione cosa ci sarà ancora in programma per il comitato per il comitato ci sono ancora tante manifestazioni in provincia di Pisa tra le più blasonate vabbè Coppa del Mobilio qui sempre Ponzacco c'è il giro della Valdera una bellissima manifestazione di una bici per tutti c'è la Pisa Coltano insomma è molto ricco il calendario per fortuna quindi insomma ci sarà da divertirsi qui a fine stagione al termine di questa mattinata di ciclismo ora è il tempo anche di riposarsi forse no perché Franco ha da lavorare Franco cosa è successo questa mattina a Ponzacco una bella corsa tanti corridori e allora? Sì sono soddisfatto perché è stata una bella corsa c'è stato parecchi corridori e poi il percorso piace a parecchi è andata bene ringraziando tutte le squadre che sono venute e speriamo che un altro anno ci siano ancora più persone allora ringraziando le persone che sono venute ma non solo ringraziando anche gli sponsor che probabilmente senza loro sarebbe difficile andare avanti sì ringrazio prima di tutto tutti gli sponsor l'amministrazione comunale e quelli che ci danno una mano anche dietro perché se non ci fossero loro non si potrebbe fare niente è dura però c'è questi pochi sponsor che sa ci danno una bella mano una bella mano dagli sponsor e prossimamente la mobilia di Ponzacco ha altre organizzazioni sì c'è da organizzare la tre giorni di Ponzacco che sarà gli ultimi di giugno 28-29-30 e poi ci sarà il campionato esordienti a Cenaia e insomma non mancano le organizzazioni non mancano da farsi per finire poi per finire con la Coppa del Movilio che sarà l'otto di ottobre se non mi sbaglio allora Franco buon lavoro e grazie per quello che fai per il ciclismo grazie a voi e buona giornata grazie a voi grazie a voi grazie a voi